Grandi avventure insieme! Grazie dell'aiuto con il carico, Carly. Non c'è problema, Cranky. Caricare Bustrad è divertente. Stai a guardare, Sandy. Bel sollevamento, Carly. Magari un giorno anche tu sarai forte come Cranky. Forte come me? Io non credo. Ah, sì? Beh, e se facessi così? Era un carico molto pesante, Carly. Era davvero molto pesante, Cranky. Tu sai fare di meglio. Certo che sì. State a guardare. Vacci piano con me. Caspita, tu riesci a sollevare di più, Carly. Non era niente. Che mi dici di questo? Scusatemi. Ora potete smetterla. Ragazzi, io sto... Prendi questo! Ah, sì? Ehi, Carly, provo a sollevare questo. Fatemi scendere da qui! Ti salvo io, Sandy! Ecco fatto. Temo proprio che le cose non si stiano mettendo bene. Oh, no! Bullfrog! Oh, scusa, amico. Tutto questo trambusto era veramente necessario? No, non era necessario. Ma è stato incredibile. Ah, adesso basta gareggiare. Facciamo gioco di squadra. Non deve essere sempre una gara. Oh, no! E adesso come facciamo? Ci penso io. Forse ho sbagliato? Beh, direi che la gara di sollevamento... È finita in parità! Ha, 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 ha!